Ci siamo stavolta, grazie ai web spettatori di NanoTV che ci hanno segnalato questo problema, ma noi non ci scoraggiamo e ricominciamo da capo questa diretta. Ben ritrovati da Paolo Fusco, web spettatori di NanoTV, Marco Russo, Antonio Portanova, Associazione Mare Più Ollus, che si occupa del mare Campano a 360 gradi, segnalazioni, problemi, contatto diretto con i cittadini. Ragazzi, benvenuti e grazie per aver voluto le nostre telecamere. Ciao Marco. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Antonio. Buonasera, salve a tutti. Allora, avete già avuto, è il vostro volontariato, è la vostra mission, l'avete fatto a Pozzuoli qualche settimana fa, risolto il problema dall'amministrazione. Siamo su questa spiaggia libera di Ercolano, una delle poche rimaste su questo splendido terreno storico. Siamo a poche centinaia di metri dagli scavi di Ercolano, sito veramente meraviglioso. Marco ci ha telefonato, così come Antonio, perché c'è un problema. Io chiedo alla nostra cameraman di inquadrare questo tratto di spiaggia libera, poi ci sono delle concessioni private ovviamente di lì, di vedete bambini, donne in attesa. Insomma, un angolo di spiaggia importante per gli Ercolanesi, per tutto quello che rappresenta la spiaggia libera in Campania, che tra tante concessioni, viva Dio che ci siano ancora spiagge libera, in cui la gente e le famiglie possono soffrire, ma c'è un problema serio che tra un po' mostreremo. Marco? Sì, io venivo contattato settimana scorsa in merito alla problematica della sporcizia che c'era a mare, dove praticamente domenica sono venuto a effettuare un controllo ed effettivamente trovavo schiuma sul primo piano del mare, la presenza di acqua torbida, color marrone, e presenza di assorbenti e pannolini mari. Quindi ho effettuato controlli per tutta la settimana e la situazione non migliorava, anzi in alcune giornate ho trovato anche una situazione peggiorata e quindi siamo dovuti scendere in campo. Abbiamo fatto questa manifestazione dove vogliamo chiedere all'amministrazione Buonaiuto di intervenire quanto prima e effettuare i controlli che si devono fare. Quindi chiediamo all'assessore, al Consiglio Tutto di scendere in campo e vedere cosa sta succedendo. Ecco, successo l'abbiamo detto qualche settimana fa a Pozzuolo, l'individuo di balneazione per qualche giorno, poi il problema è rientrato, c'eravate voi in campo sempre per la segnalazione libere dei cittadini. Antonio, però anche questo lo ripetiamo, come detto da Marco, è un tratto importante, famiglie, bambini, persone che devono soffrire e che devono sapere soprattutto quello che vedremo adesso, che cosa c'è in mare in questo tratto. Giusto, le persone, i bambini, le persone incinte che stanno qui, si fanno il bagno, e devono essere per forza accorrenti di quello che sta nell'acqua, che acqua loro si mettono addosso, che acqua possono bere, che cosa ci sta in mezzo, perché vediamo buste, scrementi, immondizi di tutti i generi. Pertanto l'amministrazione dovrebbe essere in primo luogo lei a fare questo intervento, non noi. Monitorare insomma quello che succede. Io chiedo ovviamente alla nostra cameraman, ragazzi andiamo a vedere questo che è il problema, che ci avete segnalato, un tratto meraviglioso, ripetiamo, una spiaggia libera che la nostra cameraman ci sta inquadrando, e che presenta quello che tra un po' vi faremo vedere, magari sentiremo anche qualche voce di qualche ercolanese, che vive questa spiaggia già da tempo. Ecco, ci avviciniamo ovviamente a quello che è, nello specifico, il luogo che Marco e Antonio dell'Associazione Mare più Ollus ci hanno segnalato. Ecco, questa schiuma a mare, tutto quello che vedete, che sicuramente non può essere solo lo scarico delle barche, i rifiuti che incivili buttano, ci potrebbe essere dell'altro. E questo è il problema da attenzionare, Marco. Esatto, e noi, il nostro intervento è l'invito che facciamo appunto a chi di dovere di scendere in campo, perché la popolazione di Ercolano merita rispetto, e che quindi tutte le persone debbono sapere quello che sta succedendo. Intervenire immediatamente e cercare di risolvere subito il problema, perché la gente merita il mare pulito, quindi bisogna intervenire subito. Questa situazione non è accettabile. Potrebbero esserci, usiamo sempre il condizionale ovviamente da organi di stampa, anche degli scarichi abusivi, perché no? Ci potrebbero essere tante cose che non vanno e che rendono quest'acqua così torbida. Antonio, ma il senso è quello, no? Monitorare, attenzionare per permettere a questa gente che abbiamo visto e che magari sentiremo tra un po' che ci sia un bagno pulito, sano, che non ci sia dietro l'angolo forse un diveto di balneazione per quello che vediamo. È normale, questo dobbiamo aspettare finché non viene qualcuno a dirlo però, perché dobbiamo capire questo tutto, questo, diciamo, scrementi, schiuma, buste, da dove arriva, noi dobbiamo essere sicuri di quello che facciamo. Quella è la cosa, non è che possiamo dire noi al posto di qualcun altro se la giunta del comune farebbe intervento magari di capire questo mare se veramente è balneare o no, se no non si può fare un bagno ai bambini, persone anziane o persone incinte che stanno nell'acqua. Quesito chiaro che ovviamente Antonio e Marco pongono a nome dell'associazione Mare più Ollus, associazione di volontari che si occupa di queste segnalazioni che sono state fatte da ercolanesi, da gente del posto. Noi proviamo a sentirne qualcuna, ovviamente, disturbiamola. Signora Anna, giusto? Si sta godendo questo sole al tramonto, lei è ercolanese, signora Anna? Nato proprio di Ercolano, nato, cresciuto e abito ancora a Ercolano. Questo tratto è un valore aggiunto, no? Avere ancora la possibilità che ci sia una spiaggia libera, però questa schiuma che ci hanno segnalato i nostri amici le fa paura come bagnante? Ma certo che fa paura, non solo a me, anche per i bambini. Il sindaco deve fare qualcosa per pulire questa spiaggia, per metterla un po' a nuovo. Non è giusto così, che le mamme che hanno tanti bambini non possono pagare e non possono fare nemmeno i bagni perché una spiaggia ci sta. È una bellissima spiaggia, perché non la giusta il sindaco? Quesito chiaro da parte di un ercolanese, ci permettiamo di chiedere anche alla signora? Maria. Maria, anche tu sei ercolanese o soffrisci di questa spiaggia? Sono nativa di Dore del Greco, però abito qua a Ercolano. Ercolano è una bella città, mi piace molto e sono d'accordo con la signora Anna. Il sindaco si dovrebbe impegnare di più perché questa città è un po' abbandonata, veramente. E non è giusto, perché è una bella città. Ci ammendano le spiagge libera, deve essere aiutate. Il sindaco deve fare qualcosa, soprattutto per i bambini che le mamme non hanno bisogno di pagare. dove le deve portare questi bambini a fare i bagni? Nella sfocchizia? No, non è giusto. Molto chiaro le parole di Anna e Maria, che ringraziamo e lasciamo a questo sole, questo sole del tramonto, che nonostante tutto continua ad accalorare questa città, siamo ancora temperature alte. Capite veramente questi tratti di spiaggia libera, quanto siano importanti anche in questa economia della costa vesuviana, quanti permettano di risparmiare. C'è tanta gente che magari non può permettersi un lido, non si può permettere insomma delle cifre che, lo diciamo da organi di stampa, sono triplicate rispetto ai prezzi degli anni passati. È un tratto di spiaggia libera così, è un punto di riferimento importante. Vogliamo sentire anche, chiedo alla nostra cameraman, di inquadrare nel frattempo il mare. Un'altra scollanese, il tuo nome? Anna. Ti do del tu. Il problema è sempre unico, la spiaggia è molto sporca, e soprattutto il mare, il mare si vede, anche della ripresa che avete fatto, come la situazione, cioè portare dei bambini qua giù, persone che non possono comunque pagare tutti, cioè non si possono permettere di andare le spiagge che possono pagare, almeno questo. Tu abiti da queste parti, quindi cosa credi che sia successo? Ti sei fatta un'idea? Non riesco a capire, tutto questo sporco che sta arrivando, non riesco a capire da dove viene, quello è il problema. No, scarico non ce ne sono, almeno credo, se delle cose le buttano quando vuoi, non ci stanno persone, questo non ve lo posso dire, però non me la riesco a fare questa idea, perché è una cosa assurda quello che sta succedendo. Ma da Ercolanese, come Anna, Maria, come gli amici dell'associazione, chiedi questo, che ci siano controlli, che voi siate sicuri di poter fare il bagno qui? Soprattutto che siano controlli, perché ci sono anche tanti ragazzi, giovani, che non lavorano, e logicamente non è che si possono permettere l'illusione di andare a pagare una spiaggia per appagamento. Qui è che il signor sindaco ci dia una possibilità di pulire un po' questa spiaggia, di mettere a posto un po' questa cosa, che è già diventata ristretta, ristretta, perché non era così, ma è diventata ristretta, quindi questo po' che abbiamo che ce lo possa rimanere. Lo teniamo caro e amaro, come diciamo a Napoli. Ragazzi, voi usufruite di questa spiaggia, c'è il tuo nome, ti do del tuo. Alfonso, è un bel tratto per voi ragazzi, insomma. Sono di Somma Venezolana, però vieni qua, è bello, fai tanti chilometri. Perché è vicino, però il mare è sporco, un po' sporco. Che cosa credi, insomma? La spiaggia, tutto, siamo pure noi che siamo piccoli, che cosa chiedi al sindaco, all'amministrazione, che si faccia per questa spiaggia? La spiaggia è pulita, e niente, e penso che ci fai già appogamento di sta povera, cioè, diciamo a venire di divertire, bravo. Anche per te la stessa cosa è del tuo amico, no? Sì, è uguale, è uguale. Con la calima nell'acqua. Insomma, avete sentito il punto di vista di questi due ragazzi, di un abitante, di Anna, di Maria, io ringrazio la nostra amica, ti do il tuo nome? Teresa. Teresa, sei incinta, ti auguriamo davvero, maschietto, femminuccio, femminuccio, e ti auguriamo veramente che sia la tua gioia. Vieni in questa spiaggia, vieni qui, un tratto di spiaggia libera, e vedi insomma queste schifezze a mare, ti stai preoccupando da mamma? Allora, io sì, allora io vengo su questa spiaggia qua perché è l'unica più vicina che c'ho, essendo che non avendo mezzi, quindi è l'unica che ci possiamo recare. Quindi, diciamo, venendo qua in questa spiaggia, quello che vediamo è soltanto immondizia, schifezza, schifezze, vediamo delle siringhe, ci dobbiamo preoccupare per i bambini, perché ovviamente non possiamo lasciare dei bambini da soli giocare sulle spiagge perché comunque essendo una spiaggia aperta quindi comunque è molto molto pericolosa questa spiaggia. Quindi, io non parlo soltanto da mamma oppure da cittadina ercolanese soltanto io, io parlo a nome di tutti i propri cittadini di Ercolano, che il sindaco, il nostro caro sindaco di Ercolano, si dia una svegliata a quello che deve fare perché veramente noi non ce la facciamo più, non ce la facciamo più. Noi per avere un po' di serenità dobbiamo andare sulle spiagge a pagamento, c'è chi se lo può permettere, e chi non se lo può permettere. Io ho un compagno che è disoccupato, sono mamma di cinque figli, quindi io non posso permettermi di pagarmi una spiaggia dove alla quale posso portare i miei figli diciamo a divertirsi, quindi vengo qua, li faccio divertire qua. Però, ovviamente, da mamma sono molto preoccupata, mi devo mettere accanto ai miei figli e non mi devo muovere. Questo è. Grazie, i tuoi occhi parlano molto più delle tue parole, quindi grazie davvero e auguri per questa... Siamo tanto che si dia una svegliata veramente il sindaco, con tutto il cuore. E' quello che come organi di stampa denunciamo e facciamo con le voci di questi ercolanesi doc. Bello, no ragazzi? Giovani, meno giovani, una madre, un'ennesima madre di figli, insomma, che chiedono la stessa cosa. Marco, così stiamo per concludere. La vostra associazione chiede proprio questo, che sia Pozzoli, che sia Ercolano, che sia la costiera malfitana, ovunque c'è bisogno di segnalare, di mettere in campo questa sinergia, voi ci siete. E questo lo ribadiamo che chiedi all'amministrazione del sindaco Bonaiuto. Sì, io, come ho detto già prima, credo che sia arrivato il giunto il momento di scendere in campo, quindi di fare i controlli e di capire se questo mare è balneabile o meno. E poi, bisogna avviare un dialogo anche con la popolazione stessa, perché io, fossi stato io, diciamo, parte dell'amministrazione, avrei suggerito consigliato che con questo mare sarebbe stato forse necessario evitare di frequentarlo, di andare appunto a fare il bagno, perché credo che non ci siano i presupposti. Quindi ora noi ribadiamo il nostro concetto, chiediamo all'amministrazione, ai consiglieri, all'assessore all'ambiente di venire, di scendere in campo, di capire quello che sta succedendo, fare i dovuti controlli, stabilire se questo mare è balneabile o meno e dopodiché lanciare un appello alla popolazione come comportarsi. Il popolo di Ercolano merita rispetto, quindi è inutile far finta di non vedere. Devono intervenire immediatamente. ed è quello il messaggio che lanciamo anche noi come organi di stampa, come Nano TV, abbiamo dato voce a questi amici, a questa gente, a questi conterranei, perché la spiaggia resta di tutti, il mare della Campania resta di tutti. Non siamo contro gli imprenditori che decisano di investire, ma tutti i tratti di spiaggia libera che abbiamo ancora la fortuna, che hanno la fortuna di avere qui sulla costa vesuviana, vanno tutelati. Quindi il nostro appello è quello che si unisce, concludo con Antonio, perché il sindaco Bonaiuto che è sempre stato disponibile anche nei confronti della stampa, magari vedendo questo video, ricevendo le segnalazioni dell'associazione Mare Piullus, si metta veramente di impegno a ridare questo tratto di spiaggia in maniera decente, decorosa, magari con queste analisi. Antonio, così concludiamo. Sì, speriamo il più presto possibile ci può anche chiamare, ci possiamo fare un tavolo con loro, possiamo capire, magari anche se non vogliono parlare con noi, ma fanno un intervento il più presto possibile per questi cittadini che stanno in questa zona di Ercolano, che non si possono permettere, come diceva la signora Teresa, di avere cinque figli e lei non si può permettere, ma nemmeno farsi il bagno in questa acqua. Non siamo, come dicevamo prima, non avevamo, non sappiamo se quest'acqua è veramente bagne albile o non si può. Questo è il discorso, perché qua vengono persone, come vedo, famiglie intere, però non sappiamo dopo. Tuteliamoli, tuteliamoli e questo è il messaggio, tuteliamo questa spiaggia libera della Naninella, grazie a Marco Russo, ad Antonio Portarova, di Mare Piuollus, sindaco, se ovviamente vedrai, ma chiunque vedrà, insomma, dell'amministrazione ercolanese questo video o sicuramente riceverai altri messaggi, noi ci auguriamo che tu scenda in campo insieme alla tua amministrazione per fare in modo che i tuoi cittadini riabbiano questo tratto pulito, sicuro e balneabile. È quello che ci auguriamo tutti, grazie ancora, grazie a tutti quelli che sono intervenuti, io vi saluto e sicuramente vi terremo aggiornati su questa spiaggia e su tutto quello che riguarda la nostra Napoli, la nostra campagna. Saluti a tutti, Paolo Fusco per Nanotv Ercolano.